Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di una lente che non ha sostanzialmente nulla di speciale, eppure esistono tante ottime ragioni per possederne una. Stiamo parlando di questa lente qui, che è la Canon EF 17 40mm f4 USM. Di che tipo di lente si tratta? Per chi è quest'ottica? Andiamo a scoprire le sue caratteristiche e cerchiamo di capire se può essere adatta al tipo di fotografia che hai in mente. Innanzitutto stiamo parlando di una lente zoom, quindi non è un'ottica prime. Come tale ha uno zoom che va da 17 a 40mm. Ora, questo numerino fa riferimento all'angolo di campo che ci ritroveremo su una fotocamera full frame. Quindi se stiamo utilizzando una fotocamera full frame avremo effettivamente una lente che corrisponderà a 17-40mm sul sensore da 35mm. Ovviamente le regole del gioco cambiano se stiamo usando un sensore APS-C, perché in questo caso, trattandosi di una lente Canon, dovremo moltiplicare per 1,6. Per cui la nostra lente diventerà un 28-65, una cosa del genere, così a memoria. Per cui non avremo la stessa lunghezza focale che è dichiarata dal produttore se la stiamo utilizzando su APS-C. Questo può essere un contro, ma può anche essere interessante. Questa qui è una lente di serie L che costa abbastanza poco. Mi sembra di ricordare addirittura che potrebbe essere la lente di serie L meno costosa di tutte. Stiamo parlando di un'ottica che ci si può portare a casa per una cifra che si aggira intorno ai 600€. Normalmente le ottiche di serie L si aggirano dagli 800 fino ai 3000 e qualcosa. Quindi quest'ottica è abbastanza economica. Diciamo che all'interno del parco lenti Canon, che come saprete è incredibilmente vasto, questa lente si colloca in una fascia che è abbastanza buona, perché comunque è un'ottica di serie L, quindi è un'ottica professionale con cui si può lavorare. Infatti io vi dico che ci lavoro con quest'ottica. Cioè non è un giocattolo, non è sulla mia seconda camera, io ci lavoro proprio con quest'ottica. Ovviamente non è un'ottica avanzata, non ci si può fare tutto, ma ci si può lavorare tranquillamente. Inoltre se la stiamo usando su full frame è chiaramente un ampio grand'angolo da 17mm che però ha la versatilità di arrivare fino a 40mm, quindi ci si può azzardare a fare anche un ritratto con una lente come questa, perché a 40mm comunque i ritratti si possono fare anche a 35mm, quindi a 40mm si fa tranquillamente il ritratto. Ovviamente non un ritratto appiccicato, magari un ritratto un pochettino indietro, un ritratto ampio dove si riesce a intravedere anche un po' di contesto. Non è una lente fatta per quello, perché se vogliamo un 35mm f1.4 per avere un ritratto con un bello sfocato, ovviamente questa lente non ci dà questo tipo di effetto, me la sento di dire che secondo me non è una lente da ritratto. Se vogliamo un ritratto con lo sfondo morbido dobbiamo andare su un'altra soluzione, dobbiamo andare su una lente prime e non su una lente zoom. Questo va detto, non è quel tipo di ottica. Rimane però interessante perché appunto se stiamo lavorando su full frame abbiamo un grand'angolo molto ampio con cui possiamo sicuramente fare fotografia di paesaggio, fotografia di interni, perché no fotografia in studio. Se abbiamo la necessità di realizzare foto in studio con un grand'angolo è una cosa che non succede spessissimo, però magari nella moda abbiamo la necessità di slanciare la modella scattando dal basso, il grand'angolo può tornare utile. In una certa misura possiamo anche realizzare eventi con questa lente. Parliamo un attimino dell'apertura, è un po' il tallone d'achille di questa lente, è sicuramente l'apertura perché stiamo parlando di una lente zoom e le lenti zoom siccome incorporano più elementi all'interno del barilotto solitamente vengono fuori più grandi rispetto all'omologa lente prime e sono più complesse nel senso che hanno il barilotto che bascula. In questo caso un altro vantaggio di questa lente è che quando si zooma e quando si focheggia la lunghezza del barilotto non cambia. Sapete che esistono delle lenti che nel momento in cui andiamo a zoomare hanno l'elemento frontale che si sposta avanti e indietro, in questo caso l'elemento frontale è racchiuso all'interno del barilotto per cui il movimento si svolge dentro alla parte terminale del barilotto. Questo è un grosso vantaggio perché significa che nel momento in cui noi andiamo a cambiare il nostro zoom, a mettere a fuoco, a fare qualsiasi operazione, la lunghezza effettiva non viene modificata. Questo è veramente un plus considerevole da non sottovalutare su una lente di questo tipo. Prendete in considerazione anche il fatto che potremmo starla utilizzando su un gimbal motorizzato a tre assi. Ora nel momento in cui noi utilizziamo una lente con assetto variabile sopra un gimbal o comunque su una struttura che deve avere un suo bilanciamento, ogni volta che andiamo a zoomare questo bilanciamento viene compromesso. Con una lente di questo tipo è vero che c'è un elemento che si sposta, però la variazione è così blanda che la maggior parte delle volte non sarà necessario ricalibrare la nostra strumentazione. Inoltre avremo un ingombro inferiore durante il trasporto e avremo una lente che anche se orientata verso il basso non tende a lasciarsi andare. Molte lenti zoom hanno questo difetto che se puntate verso il basso, magari stiamo scattando un flat lay su cavalletto, hanno la tendenza ad avere l'obiettivo che si sposta da solo, hanno la tendenza ad avere l'elemento frontale che scende da solo per via della gravità. Ecco, con questa lente non succede nulla di tutto questo. Sicuramente il fatto di avere l'apertura massima a f4 è un po' uno svantaggio, è uno svantaggio perché abbiamo di base meno luce. Questo è dovuto al fatto che ovviamente i produttori hanno dovuto fare un compromesso. Hanno voluto realizzare un'ottica che avesse un'escursione da 17 a 40 mm. Ovviamente per dargli quell'escursione, mantenendo il barilotto in dimensioni accettabili, hanno dovuto tagliare un pochino di luce, altrimenti sarebbe venuta enorme per far entrare più luce nonostante quell'escursione. Perché questa scelta è pienamente condivisibile? Ve lo dico subito, perché a parer mio una lente del genere dà il suo meglio a f8. Un'ottica del genere io la uso per fare prevalentemente foto di paesaggio e foto di interni. In entrambi i casi sto utilizzando questa lente da f8 a f11. Questo che cosa ci dice? Il produttore ha voluto sicuramente ammiccare a una tipologia di utente come me in questo caso, perché ci fornisce un'ottica comunque professionale con cui siamo in grado di lavorare, di portare a casa dei lavori ben fatti senza doverci assolutamente vergognare di niente. È vero che c'è il 16-35 mm f4 che è più bella di questa, e questo è vero, però è una lente che costa praticamente il doppio. Se noi non vogliamo affrontare quel tipo di spesa, questa è un'ottima alternativa. Intanto per quanto riguarda il diaframma è uguale, quindi da quel punto di vista non perderemo niente. Gli indubi vantaggi di questa lente sul 16-35 mm sono secondo me intanto che non si ferma a 35 mm ma arriva a 40 mm, quindi riesce a essere un pochettino più spinta e ci possiamo fare dei dettagli. Il secondo vantaggio è sicuramente il prezzo, perché comunque costa veramente molto ma molto di meno. Come vi dicevo io uso questa lente quasi esclusivamente per realizzare paesaggi, architetture o fotografie di interni o di esterni. Ovviamente vi dico la verità, non è una lente versatilissima, almeno su full frame, perché comunque su full frame rimane un ampio grand'angolo che arriva a malapena a essere una lente standard, quindi ci farò quasi esclusivamente paesaggio e fotografia di interni, comunque contesti dove serve un ampio grand'angolo. Un grosso vantaggio però di questa lente è che ovviamente monta a cascata anche su tutti gli altri corpi macchina Canon, e con tutti intendo praticamente la sua totalità, nel senso che questa lente può andare su una full frame di vecchia generazione, come in questo caso la vedete montata su una Canon EOS 5D Mark II. Questa è la combinazione che io utilizzo il più delle volte, una lente non nuovissima su un corpo macchina non nuovissimo. Io mi trovo molto bene con questa combinazione, perché con questa io faccio fotografia di interni, e con questa combinazione riesco, scattando in bracketing, ad avere delle immagini di interni eccezionali, con una ricchezza tonale e una gamma dinamica che mi permette di fare sempre comunque bella figura col mio cliente. Vengono meglio le foto fatte con questa strumentazione piuttosto che col telefonino se le sai fare bene. Quindi è una combinazione che rimane professionale anche molti anni dopo l'uscita di questi due prodotti. Tuttavia, come dicevo, questa è una lente versatile, perché questa lente può montare su questo corpo macchina full frame, ma può montare anche sui vecchi corpi APS-C. Per esempio, io potrei montare questa lente sulla mia Canon EOS 80D. Monterebbe senza nessunissimo problema, l'unico, chiamiamolo contro, è che diventerebbe un 28-65 mm. Ora, attenzione, che cosa significa che diventa un 28-65 mm? Significa che l'angolo di campo effettivo percepito su un sensore APS-C è differente rispetto a quello della full frame. Ora, questo può essere anche un vantaggio, perché nel momento in cui noi abbiamo una fotocamera APS-C e la vogliamo dotare di una lente zoom standard, possiamo andare a prendere, per esempio, il 17-55 mm f2.8. È un'ottica stratosferica che io possiedo, un'ottica che mi piace veramente tantissimo, e quello che mi piace è che ha il diaframma f2.8, ovviamente, oltre al fatto di essere stabilizzata. Quindi ha sicuramente dei pregi in più rispetto a quest'ottica. Però, quali sono i contro? Innanzitutto il prezzo, perché quella è un'ottica che pur non essendo di serie L, non essendo tropicalizzata, è una lente che costa intorno ai 1000€, quindi costa molto di più. In secondo luogo è una lente EFS, quindi monta esclusivamente sui corpi APS-C. Ora, io quella è un'ottica che acquistai diversi anni fa, non mi pento di averla acquistata, la uso ancora, è sempre fantastica, mi piace tantissimo. Però, se io avessi saputo quante lenti avrei comprato alla fine in vita mia, quante ottiche avrei avuto, io vi posso dire che non credo che avrei investito 1000€ per comprare un'ottica APS-C. Questo ve lo posso dire. Per il semplice fatto che avrei comprato un'ottica magari omologa, ma con l'anello rosso, un'ottica da full frame, perché da full frame non è solo questione che sono migliori, è anche questione che sono più versatili, perché si possono montare anche sui corpi macchina più evoluti. Invece quella lente, che è pur bellissima, però rimarrà sempre confinata al comparto APS-C. Ora, io sono contentissimo di averla. Quello che voglio dire è semplicemente che, nel momento in cui dobbiamo fare una scelta di questo tipo, noi potremmo, per esempio, acquistare il 1740, invece del 1755. La differenza, in termini di focale, è veramente minima. Ovviamente sono lenti diverse, però hanno una differenza di prezzo così notevole che, se state lavorando su APS-C e magari avete appena cominciato, secondo me è preferibile optare per una lente come questa, piuttosto che il 1755, che ha un prezzo esorbitante alla fine per quello che è. Nel senso che quei soldi li vale. Però una lente da APS-C che costa così tanto risulta proibitiva per molte tasche, me ne rendo conto benissimo. Vediamo, fra l'altro, un po' di ulteriori pregi di questa lente, rispetto alla sua omolga per APS-C. Innanzitutto abbiamo buone prestazioni ottiche su tutte le lunghezze focali. Questa è una lente con una buona nitidezza, tutto sommato. Ha un'ottima nitidezza nel centro e devo dire che anche andando verso i bordi, sì, ovviamente perde qualcosa e perde qualcosa soprattutto alla massima apertura e alla massima chiusura. Se stiamo scattando a f4 o a f22 sicuramente la nitidezza non è il massimo. Ma se stiamo scattando tra f8 e f11 è una lente che non se le manda a dire. Abbiamo un'ottima nitidezza lungo tutto il fotogramma. Ovviamente i bordi sono un pochino più morbidi, ma questa è una caratteristica delle lenti grandangolari. Quindi non mi scandalizzo. Sì, il 16-35mm f4 è meglio. In questo è meglio, perché ha una nitidezza migliore lungo i bordi. Però le differenze sostanzialmente finiscono qui. Perché per il resto, per quanto riguarda il contrasto e la nitidezza, soprattutto nel centro, siamo lì se la cavano, sono abbastanza simili. La velocità di messa a fuoco di questa lente è assolutamente ottima. È una lente comunque che non fa fatica per niente a mettere a fuoco, perché vista la sua natura grandangolare ha una profondità di campo molto elevata. Quindi questo va detto, è una lente con cui non riusciamo a sfocare lo sfondo. Questo non riusciamo a farlo, perché proprio per come è costruita è una lente che è fatta per avere una profondità di campo ampia. Se usiamo un 50mm f1.2, quella è una lente costruita per avere lo sfondo sfocato. Questa, al contrario, è una lente costruita per avere una profondità di campo ampia, perché è pensata per fare paesaggi interni. È un genere fotografico dove deve essere tutto a fuoco o quasi. Quindi non riusciremo a fare lo sfocato con questa lente. Questo ve lo segnalo perché va detto. Stiamo parlando comunque di una lente di serie L, quindi è una lente molto resistente a polvere e umidità. È una lente che non teme la pioggia. Secondo me possiamo tranquillamente metterla su un cavalletto e fare una posa di due minuti sotto una lieve pioggerellina e quando si asciuga è come nuova. Non ne ha minimamente risentito. Quindi ha anche la tropicalizzazione. Se la montiamo su un corpo macchina che parimenti ha la tropicalizzazione, non corriamo grossi rischi per quanto riguarda infiltrazioni di polvere e umidità. Per quanto riguarda la distanza di messa a fuoco, di nuovo, questa lente ha delle caratteristiche molto interessanti. Perché ha una distanza minima di messa a fuoco di 28mm. Questa può sembrare una cavolata, però se noi andiamo a metterci circa 30cm, diciamo che la mia spanda sono 20cm, per cui 28, siamo qui, una roba del genere. Ora, mettere a fuoco a 28cm con un'ottica da 17mm è molto interessante perché significa che noi possiamo quasi fare fotografia macro col grand'angolo. Non è una vera e propria macro, però siamo molto vicini al nostro soggetto. Vuol dire che comunque possiamo avere il nostro soggetto in centro con la distorsione del grand'angolo, che è una cosa che facciamo di proposito. Quindi in questo caso non andremo a fare un ritratto posizionandoci a 30cm dal naso perché verrebbe un effetto sgradevole. Però se stiamo fotografando un animale, per esempio, se stiamo fotografando un cane, può venire un effetto molto interessante perché gli deforma il muso, gli viene il nasone molto grande. Può essere un effetto interessante. La possibilità di focheggiare così vicino ci apre una miriade di possibilità creative. Possiamo utilizzare qualcosa in primo piano per incorniciare la nostra foto e avere poi il paesaggio che si perde all'orizzonte e rimane abbastanza a fuoco. Quindi è assolutamente interessante il fatto di poter mettere a fuoco a quella distanza. Molte lenti hanno una distanza di messa a fuoco maggiore. Faccio l'esempio per esempio dell'85mm. L'85mm non permette di mettere a fuoco se non a 50mm di distanza. Quindi dobbiamo stare lontani dal nostro soggetto. Ci sta perché è in sito nelle caratteristiche di quella lente che non stai appiccicato stai un po' indietro perché hai una composizione priva di deformazione bella dritta e rettilinea. Quindi ci sta. Non è il caso di questa lente. Con questa lente possiamo avvicinarci veramente molto e questo la rende molto versatile. Vediamo però un altro piccolo contro di questa lente. Questa lente non è dotata di stabilizzazione di immagine. Questo ovviamente determina il suo prezzo un po' basso. È per questo che è vantaggiosa in termini di prezzo una lente come questa perché non avendo la stabilizzazione ottica all'interno del barilotto costa di meno perché ha una componente che non è stata messa dal produttore. Questa è una cosa che gioca a nostro vantaggio perché noi siamo liberi di scegliere. Se vogliamo un'ottica grandangolare con la stabilizzazione prendiamo il 16-35mm f4 LIS USM. Una lente fantastica superlativa che è quella che io uso la maggior parte delle volte perché comunque avere quella stabilizzazione a me fa comodo. Però se quella stabilizzazione non mi serve se sto facendo foto su cavalletto e quindi la stabilizzazione non mi serve la spengo se sono sul cavalletto perché se no è controproducente consuma batteria e può introdurre dei movimenti perché la camera è già ferma se non mi serve perché sto facendo paesaggio o comunque scatto sul cavalletto quest'ottica si rivela migliore perché comunque in termini di qualità prezzo mi dà sostanzialmente la stessa cosa però mi fa risparmiare e oltretutto è anche più leggera. Per quanto riguarda le features che sono apprezzabili sul barilotto della lente vedete per esempio che noi qui abbiamo due ghiere che sono molto comode molto morbide entrambe abbiamo due ghiere robuste e abbiamo il bottone dell'autofocus quindi muovendo questo tasto possiamo decidere se vogliamo che la camera focheggi da sola oppure se lo disabilitiamo possiamo fare il fuoco manualmente con il nostro anello quindi questa già è una feature che c'è su tutti i corpi macchina però vi segnalo che c'è una cosa che invece non c'è su tutti gli obiettivi è la distanza di messa a fuoco infatti qui non so se riuscite a vedere qui sul barilotto abbiamo una seconda ghiera che ci mostra a che distanza stiamo mettendo a fuoco ora questa sembra una cavolata finché non vi serve vi faccio un esempio mi è capitato in questi giorni di recarmi a fotografare le lucciole al buio se avete visto il mio video precedente magari ne sapete qualcosa vi linkerò il video in card così se vi interessa l'argomento potete andarvelo a recuperare fotografare le lucciole è una cosa molto tecnica abbastanza difficile molto divertente e molto soddisfacente se lo facciamo nel modo giusto ora questa lente non è adatta a fotografare le lucciole chiaro perché con un'apertura di f4 non va bene troppo buia ce la facciamo lo stesso ma dobbiamo alzare gli iso avremo delle foto piene di rumore quindi non è la lente adatta tuttavia ha una feature che potrebbe rivelarsi fondamentale in quel genere fotografico ed è proprio questa possibilità di vedere a che distanza si sta mettendo a fuoco quando è che serve questa ghiera supplementare che avrete notato c'è su molti obiettivi magari possedete degli obiettivi che ce l'hanno e non vi spiegate il motivo allora il motivo è innanzitutto che ha una comodità perché io potrei volere esattamente la messa a fuoco a una certa distanza e poi potrei volerla variare esattamente a un'altra distanza è una cosa che servirebbe più nel cinema ovviamente che nella fotografia perché magari voglio fare un movimento di camera e il mio fuoco deve andare da tot a tot se io vedo dov'è questo tot ovviamente lo faccio con precisione posso ricordarmi che devo andare da un metro a tre metri con la messa a fuoco faccio il mio movimento camera e aggiusto la mia messa a fuoco e vedo dov'è così non faccio errori perché a volte magari il monitor è piccolo in questo modo so che la mia messa a fuoco è a un metro so che la mia messa a fuoco è a tre metri o quello che voglio io d'altro canto può essere molto utile se non riusciamo a mettere a fuoco perché per esempio con le lucciole se ci troviamo a mettere a fuoco nell'oscurità nel buio la fotocamera non riesce a mettere a fuoco in automatico perché la fotocamera si basa sul contrasto e perché ci sia contrasto ci deve essere un minimo di luce se siamo nell'oscurità più totale quindi anche se stiamo facendo fotografia notturna magari se stiamo facendo paesaggio notturno o se stiamo fotografando ecco le stelle magari e con questo obiettivo si possono fotografare le stelle non è l'ideale ma si possono fotografare se stiamo facendo una cosa di questo tipo dove la nostra fotocamera è impossibilitata a mettere a fuoco ci viene molto comodo avere la ghiera della distanza perché così noi sappiamo quanto meno a che distanza siamo è ovvio che se stiamo fotografando le stelle vediamo qui che la messa a fuoco va da 0.28 chiaramente come dicevamo fino a infinito passando per 1,5 metri e 1 metro 3 metri e così via ora il punto qual è se stiamo fotografando le stelle di certo non mettiamo a fuoco a 28 centimetri saremo vicini a infinito quindi quanto meno con questa ghiera abbiamo un buon punto di partenza per fare il nostro scatto di prova poi da lì ci rendiamo conto se abbiamo sbagliato e andiamo a reimpostare la nostra messa a fuoco ma di poco perché siamo già vicini abbiamo già visto che siamo più o meno alla distanza che ci serve questo può facilitare molto ed è una cosa non scontata un'altra cosa che non tutti i corpi e macchina hanno è lo speciale rivestimento super spectra che viene effettuato sulle lenti in particolare sull'elemento frontale è un trattamento alla fluorite se ricordo correttamente ricordo che avevo fatto un corso per le tecnologie Canon anni fa quando ho fatto il promoter per loro presso dei punti vendita trattamento alla fluorite che cosa fa sostanzialmente serve a schermare l'elemento frontale e a renderlo un pochettino più resistente ai riflessi indesiderati alle luci parassita quindi nel momento in cui scattiamo magari contro sole o scattiamo con degli spotlight che potrebbero rimbalzare sul nostro vetro questi genererebbero dei flare dei bagliori all'interno del nostro fotogramma possono essere molto molto carini se stiamo facendo fotografia di matrimonio abbiamo il riflesso che può anche essere voluto come effetto può essere molto bello è una cosa che per esempio io faccio spesso quella di mettere il sole alle spalle di usare il riflesso per decorare per abbellire il nostro frame magari per riempire un angolo dove non c'è niente però un conto è se lo fai apposta e un conto è se non lo volevi in questo caso se stai facendo fotografia di interni probabilmente non lo vuoi quell'effetto lì perché in fotografia di interni deve essere tutto pulito non possiamo presentare delle foto con delle macchie di colore perché se stiamo facendo foto per un architetto o per qualcuno che deve affittare la casa quell'effetto è assolutamente fuori luogo in casi estremi ovviamente magari un flare ci può essere lo stesso se abbiamo una luce che picchia direttamente nel frontale e la nostra composizione ci impone di stare in quella posizione possiamo fare una cosa però possiamo andare a schermare la luce che genera quel riflesso parassita facciamo due foto una con la luce schermata e una normale in questo modo quantomeno avremo la possibilità in post produzione di andare a rimuovere gran parte di quel riflesso però con una lente come questa questo è un problema che si verifica di meno rispetto che con altre perché è stata trattata apposta inoltre questo trattamento va anche a incidere in minima parte ma qualcosina fa sulla netidezza e sulla gamma cromatica perché riesce a restituire dei colori più vividi che vanno poi a fare gioco con la color science di Canon per regalarci delle immagini molto molto gradevoli in definitiva per chi è questa lente per chi è consigliata allora io vi straconsiglio questa lente se siete alle prime armi se state cominciando e se volete una lente tuttofare sopra il vostro sensore APS-C perché questa come lente tuttofare è molto ma molto buona ovviamente non ha una grandissima apertura però devo dire che i modelli anche APS-C che si stanno comunque evolvendo e stiamo aspettando i modelli per esempio Canon R7 e R10 con quei modelli lì con un anello adattatore questa lente funziona ancora e diventa un ottimo tuttofare perché a quel punto su una camera come quella che non teme gli alti ISO anche se noi lavoriamo a ISO 3200 con una lente come questa secondo me ce la si cava quindi è una lente che va bene per sensori APS-C se state cominciando a incrementare il vostro parco ottiche se volete abbandonare la lente kit e mettere qualcosa di un po' più bellino va benissimo se siete dei professionisti o se state comunque facendo dei lavori in ottica di paesaggio e di fotografia di interni in questi due generi questa lente dà veramente il meglio di sé perché comunque bypassiamo completamente il fatto che abbia un'apertura iniziale di f4 perché tanto scattiamo a f8 magari anche a f11 e scattiamo su cavalletto quindi non ci interessa più che sia una lente con un'apertura non proprio ampissima per contro è una lente che regge molto bene i riflessi quindi è dotata ovviamente anche del suo paraluce quindi possiamo anche andare a schermarla ulteriormente in questo modo se non dovesse bastarci ovviamente possiamo anche rigare la camera con una scatola grigia con un matbox per schermare ancora di più però questa è un'altra cosa una cosa che si fa successivamente proprio solo se serve è una lente che va anche abbastanza bene per fare video secondo me perché comunque essendo un grandangolo ampio avendo un'ampia profondità di campo se noi montiamo questa lente su un gimbal motorizzato e facciamo per esempio video real estate quindi video di interni riusciamo anche nel movimento camera a rimanere con tutto abbastanza a fuoco perché ha una profondità di campo ampia quindi anche se non ha la messa a fuoco automatica sul video non ce l'ha comunque una lente di concezione vecchia non ha né la modalità stm delle vecchie lenti canon né le modalità nuove delle ottiche rf quindi mette a fuoco in automatico solo per la fotografia però ha una profondità di campo così ampia che se noi decidiamo stiamo riprendendo una scena ampia e poi facciamo dei passi in qualche direzione non varia così tanto la messa a fuoco quindi ce la si cava va benissimo anche per fare video va benissimo anche per fare timelapse per esempio perché se noi facciamo timelapse mettiamo lì la camera abbiamo il nostro intervallometro facciamo tutto quello che dobbiamo fare una lente che rende molto bene sul timelapse proprio in virtù del fatto che regge bene il lens flare i riflessi indesiderati quindi anche se la luce si sposta anche se la luce del sole si sposta questa è una lente che mitiga molto quell'effetto quindi è assolutamente indicata anche per quello è indicata per tutti i generi fotografici secondo me un po' statici nel momento in cui dobbiamo fare qualcosa di dinamico se stiamo facendo degli eventi di sera al buio se stiamo facendo un matrimonio una cerimonia in chiesa lì non è più tanto indicata perché lì ci obbliga a salire con gli iso perché non lascia entrare tanta luce di suo quindi ci obbliga a salire con gli iso inoltre non è stabilizzata quindi questo è il suo contro è un'ottica adatta se si fa fotografia statica se si fa fotografia su cavalletto io adesso in chiusura di video vi faccio vedere una carrellata di immagini realizzate proprio con questa fotocamera così vi fate la vostra idea è un'ottica che io uso di frequente non lo nascondo è un'ottica che utilizzo la maggior parte delle volte quando so che devo fare solo fotografia di interni su cavalletto oppure solo paesaggio su cavalletto è un'ottica con cui ce la si cava benissimo siccome so che moltissimi là fuori amatori e professionisti sono dediti alla fotografia di paesaggio se non alla fotografia di interni ecco questa è un'ottima lente se volete fare fotografia di paesaggio perché non vi spenna vivi vi dà comunque un risultato che è paragonabile a delle lenti anche di fascia di prezzo superiore l'unica cosa che non ha è lo stabilizzatore ma se fate paesaggio tanto non vi serve bene amici io e il 1740 mm vi salutiamo qui io vi ricordo che se volete supportare questo canale potete lasciare un bel like a questo video lasciarmi un commento anche se avete domande cose che magari non ho detto che ho dimenticato una curiosità in particolare una compatibilità di cui magari non ho approfondito qualsiasi cosa vogliate sapere vi aspetto nei commenti io vi consiglio anche di iscrivervi a questo canale di attivare la campanella perché di recensione ne arriveranno altre e anche di espedienti fotografici in generale parleremo di fotografia di videomaking di design quindi c'è tutta una ampia gamma di argomenti che andremo via via a trattare e questo dipenderà anche dalla stagionalità del mio lavoro quindi in base a quello che mi trovo a fare di volta in volta cercherò anche di portarvi dei contenuti che siano adatti al momento dell'anno in cui ci troviamo e con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao